Arriva la quiete dopo la tempesta in Puglia, ma i danni restano e sono piuttosto ingenti. Nel giorno dopo Ferragosto alcuni punti della regione sono stati colpiti da una violenta perturbazione che ha portato temporali e trombe d'aria impressionanti le immagini arrivate dal basso Salento, sponda adriatica, con bagnanti in fuga dalle spiagge e travolti dalle forti raffiche di vento nella zona delle marine di Melendugno. Il bilancio è di alberi sradicati, segnaletica stradale di velta e danni a pali della luce e alcuni dehors di attività commerciali, volati via lettini, ombrelloni e bidoni dei rifiuti, mentre una parte del muro perimetrale del foro di Sant'Andrea è crollato, attimi concitati in cui fortunatamente non sono stati registrati feriti, l'ultimo atto di una perturbazione che nel complesso ha tenuto turisti e bagnanti pugliesi con il naso all'insù in tutto il weekend di Ferragosto, tra temporali sparsi e tempo incerto per larghi tratti. Ora per la Puglia è attesa una nuova ondata di caldo, la sesta di una stagione estiva cominciata presto, con il primo anticiclone africano registrato a fine maggio scorso. Nei prossimi giorni, comprese il weekend, torneranno le temperature alte con picchi fino a 40 gradi giovedì, ma solo in alcune località e per poco tempo. Non mancherà qualche nuvola sparsa per via di una perturbazione atlantica che arriverà in Italia dal centro nord, il sud verrà toccato solo in parte. Fino a domenica insomma ci sarà bel tempo e temperature calde, ma nella media stagionale, ovvero tra i 30 e i 32 gradi.